Si alza Stipario sul palco dell'Ariston e comincia la 74esima edizione del Festival di Sanremo. In occasione della prima serata si sono esibiti tutti e 30 i cantanti in gara ed è stata una lunga notte, con la top 5 proclamata solo all'1,57. Anche quest'anno Amadeus supera tutti i record, registrando uno share del 65,1%. La sala stampa TV Web ha premiato Loredana Bertè, che comanda la classifica provvisoria. Seguono Angelina Mango, Anna Lisa, Diodato e Mahmoud. I look sono già diventati virali sul web, dove si è scatenata una pioggia di meme. Il co-conduttore Marco Mengoni si è rivelato anche un ottimo showman. Sul palco della prima serata della Kermess anche la mamma di Giorgio Cutolo, il giovane musicista ucciso Napoli mentre difendeva un amico. A sorpresa Zlatan Ibrahimovic, che con Amadeus dà vita a sketch sempre esilaranti. Infine, impossibile travassare Fiorello, che con la sua frecciatina Chiara Ferragni ha divertito proprio tutti. Ora quindi, occhi puntati sulla seconda serata del festival.